Il protagonista del video di oggi è questo dipinto qui che ho alle mie spalle è un dipinto di una nuvola che ho eseguito e che presento nel video passo passo ci sono dei momenti che sono più veloci, velocizzati, perché magari riguardano la stesura di campiture però ho voluto mantenere il video abbastanza completo, quindi a velocità normale Se qualcuno intendesse velocizzare il video, ovviamente nelle opzioni c'è la possibilità di aumentarne la velocità Sotto il video io parlo, parlo del mio lavoro, parlo anche di qualcosa inerente alla tecnica e naturalmente parlo dell'esecuzione e di come ho affrontato l'esecuzione di questo dipinto e il metodo che ho usato Spero che il video sia interessante e informativo per voi e non mi resta che augurarvi una buona visione non prima di avervi chiesto di iscrivervi al canale e di commentare, come state facendo, sotto le descrizioni Condividete il video se volete e potete e mettete un mi piace Questo aiuterà senz'altro il canale a essere più visibile Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere subito il video Buona visione e a presto Un grigio che è quello della volta scorsa che ho tenuto dentro il barattolo e ho riempito d'acqua Quindi svuotata l'acqua il colore è esattamente come l'ho lasciato una ventina di giorni fa quando più o meno ho dipinto quel quadro monocromo della nuvola che ho postato come video sul canale Magari vi metto il link sopra in alto a destra così potete andarvelo a rivedere con calma se non l'avete ancora visto E quindi adesso eseguo un dipinto non monocromo Questa preparazione è, ricordo, una parte di Bruno van Dijk una piccola parte di terra gialla e nero di Marte e bianco di titanio La ricopro, quindi disegno lo sfondo di questa nuvola e questa superficie che è un pochino, non è proprio bianca perché sotto c'è un lievissimo strato di colore di un'altra preparazione che ho fatto per mostrare il comportamento del rosso che è nell'altro video quindi utilizzo la stessa tela e adesso invece ho fatto l'ingombro della nuvola l'ho dipinta tutta con questo barattolo che avete visto prima che è composto da terra gialla e da bianco di titanio con una piccola punta di lacca di garanza invece quello che avete visto il grigio è lo stesso grigio dal fondo quindi nella tavolozza utilizzo il blu di cobalto, il bianco di titanio, il Bruno van Dijk e i due colori che ho usato per fare il fondo del cielo e per fare il fondo della nuvola adesso mischiamo con una punta di blu cobalto, una punta di bianco, una punta di Bruno van Dijk per trovare un colore che sia adatto e sia adagi sulla nuvola, sulla parte in basso che costruirà proprio le parti diciamo un accenno delle parti in ombra della nuvola è importante prima provarlo sulla tela il colore perché ovviamente sulla tavolozza qualsiasi colore ci possa essere non sono gli stessi che sono sulla tela quindi vedrete adesso ho messo questo questo blu questo cobalto in maniera prevalente invece poi lo aggiusterò perché perché messo sulla tela ovviamente da un altro risultato che sulla tavolozza quindi comincerò a modificarlo aggiungendovi del giallo chiamiamolo e del bianco ovviamente e anche del Bruno van Dijk in cui adesso cerco di dare forza agli scuri la nuvola ha una grande suggestione perché ti permette almeno a me permette di sommare tanti tante nuvole che ho visto quindi e prendere da ognuna di esse la parte che mi interessa per poi costruire d'altra parte la nuvola è come tutti gli oggetti è colpita dalla luce e quindi ha delle parti in luce dalla parte in ombra e si comporta in un certo modo per cui quando si muove e a seconda di come si muove le luci si comporteranno in modo completamente diverso quindi è interessante anche se si può o se magari si vuole o se si cerca di ottenere il movimento di ottenere anche quella sensazione proprio di lievità e di potenza anche della nuvola stessa allora io adesso sto ho tralasciato completamente il fondo su questo sul fondo grigio quindi sto lavorando sul fondo giallo questo fondo giallo qui non è completamente asciutto ed è importante perché lavorare su un colore completamente asciutto è come se è come se il colore sopra poi scivolasse invece qui deve compenetrare dentro quindi non essendo completamente asciutto quando lo forzo un pochettino la mano sento il colore sotto che tira e quindi riesco a farlo vibrare a farlo compenetrare con l'altro quindi adesso sto giocando con queste sfumature per realizzare diversi strati di profondità e di diverse cavità della nuvola stessa comunque dicevo questo giallo qui è un giallo di fondo molto interessante che io uso spesso quando faccio le nuvole delle volte lo carico un pochino di più di terra gialla però in questo in questo video che è praticamente condotto alla prima cosa vuol dire alla prima quando tu inizi un dipinto e lo finisci nella stessa sessione praticamente e si chiama alla prima lo è in parte perché ovviamente come avete visto le il fondo che ho fatto sia quello grigio sia quello giallino chiaramente l'ho fatto in momenti diversi tre o quattro giorni fa ho fatto i fondi e adesso sto dipingendo sopra di essi quindi ho già preparato l'azzurro che andrà sopra a definire i contorni della nuvola e adesso sto dipingendo diciamo la base quella che che risulterà scura e che e che sosterrà la nuvola in questo momento ho preso il bianco di titanio e l'ho mischiato con il giallo del fondo quindi per ottenere una una tonalità un pochino più fredda di quella del risultato della preparazione del fondo non essendovi della terra gialla quindi da questa sensazione più di di difreddezza che però mi aiuta bene a sfruttare il giallo del fondo e poi alla fine far risultare il tutto non così freddo come si potrebbe far pensare perché il giallo che esce ogni tanto in qualche parte del dipinto e quindi non sarà coperto del tutto riesce a far uscire quella quella piccola quel piccolo punto di caldo che mi interessa lasciare nella nuvola avrei potevo come ho fatto per altri per altri prezzi prima potevo fare fare vedere questa questa parte velocizzata ci saranno delle parti velocizzate e delle parti no perché il video non dura tantissimo e quindi mi dà proprio l'opportunità di magari far vedere a chi interessa qualche passaggio in maniera più più dettagliata quindi c'è questa luce che colpisce la nuvola che in questo momento è realizzata vi ricordo con queste in questi due in questi due colori il bianco di titanio e quel giallo che è formato anche da una punta di lacca di garanza la lacca di garanza non è un colore molto caldo è un colore come abbiamo parlato già nell'altro video è un colore molto interessante che va benissimo per le velature e per certi tipi di nuance che si possano ottenere perché ha un valore colorante abbastanza interessante ricapitolando la scelta dei colori di fondo è sempre relativa ai colori che poi adopereremo nel quadro che andiamo ad eseguire non deve esserci poco di lasciato al caso perché a meno non si sperimenti proprio sulla tela e quindi non si cerchi proprio nel momento in cui si fa pittura quella quella tra virgolette ispirazione che magari si trova altrimenti quando quando si è a tavolino e si pensa di realizzare un oggetto quindi se io ho pensato a questo fondo grigio perché la terra gialla che c'è in questo fondo grigio a parte che è presente anche nel giallino di fondo della nuvola che come vedete man mano che io metto colore più chiaro sopra risalta ancora di più sia il giallo che la lacca di garanza che abbiamo detto poco fa ma ed è presente anche nel fondo fondo che io ho preparato in questo modo perché il blu che andrò a collocare sopra è un blu che ha bisogno di un corpo sotto non tanto freddo ma abbastanza caldo di un grigio abbastanza caldo almeno io lo vedo così e quindi questo azzurro che poi andrò a collocare deve esaltare i piccoli frammenti di giallo che ogni tanto si vedranno e che spunteranno fuori dalla nuvola centrale il blu deve essere il blu cobalto lo è un colore molto duttile e che diventa coprente quando sotto ha dei colori che sono solidi che riescono a sostenerlo per esempio se io sotto avessi usato del rosso non avrei ottenuto avrei magari ottenuto più forza e più brillantezza però non avrei ottenuto quel calore necessario che mi serviva che era importante ottenere per l'economia del dipinto per tutta la struttura cromatica del dipinto ecco adesso invece ho velocizzato quindi alterno momenti più veloci a momenti di ripresa in tempo reale vedete come i colori cambiano relativamente alla vicinanza se noi usiamo naturalmente una tavolozza con un legno che dà sul rossiccio molto caldo un legno caldo come d'altronde sono quasi tutti i legni quando noi andiamo a mischiare un colore sulla tavolozza se ha un colore freddo ovviamente ci sembrerà ancora più freddo sulla tavolozza di quando noi lo andremo a porre sulla tela è importante importante che noi sappiamo che i colori si comportano in maniera diversa a seconda dei colori a cui sono accostati è importantissimo tenere presente questo è importante tenere presente quali sono i colori che non vanno mischiati assieme come abbiamo visto o mi stiamo vedendo in questi video che io faccio dove prendo proprio come tematica colore per colore e magari si parla della composizione chimica ma è importante sapere anche qual è la struttura cromatica e quali sono le possibilità di utilizzo di un colore vicino ad un altro colore sopra un altro colore perché i risultati che si ottengono sono se si conoscono e se si ha una confidenza con essi si ottengono appunto risultati prima di tutto soddisfacenti perché perché sono voluti e quindi non casuali e poi perché si può scegliere già in partenza quale sarà il colore che sarà giusto adottare per ottenere un certo effetto cromatico è importante sapere quanto il colore sia determinante nella struttura della forma Cezanne diceva che il colore va verso la sua ricchezza maggiore quando la forma va verso la sua pienezza quindi la determinazione di una forma determina anche l'arricchimento del colore su quella forma però noi dobbiamo osservarla ancora una volta e capire qual è il colore migliore da usare per riuscire a esprimere quello che noi vogliamo raccontare di quella forma e questo è importante importante indagarlo ed è importante e non è banale ragionare sulla sulla composizione dei colori di una tavolozza ad esempio ho dei colori che rappresentano la tavolozza di quel determinato quadro guardate un quadro nella sua completezza vedete che ci sono dei colori dominanti e la scelta di dove mettere questi colori dove collocarli può avere molte ragioni ma una ragione fondamentale è quella di riuscire a far sì che tutte le forme all'interno di quel dipinto possono essere si possono esprimere nel migliore dei modi mettere in condizioni mettere nel migliore modo nel modo migliore le parti in condizioni di esprimersi al meglio come in qualsiasi team in qualsiasi squadra dove c'è una persona che che non può giocare in un altro ruolo che quello che una persona non può fare un altro sport che quello perché quelle sono le sue caratteristiche ed è anche un po così per i colori è banalizzata la cosa però è tanto per far comprendere quanto quanto sia importante questo ad esempio il blu che io sto mettendo avete visto che ho presentato il barattolo e che ho formato innanzitutto apro una parentesi e dico come ho formato questo blu allora questo qua è un blu che è il risultato di una di una della somma di bianco di titanio blu cobalto il grigio che sta in fondo che sta sotto quello stesso blu e il Bruno Van Dyck se voi vedete questo colore qui su una superficie ad esempio marrone vi appare un colore grigio se invece lo vedete come lo vediamo insieme in questo momento sul dipinto è azzurro ha una tonalità azzurra questo perché perché viene aiutato a esprimere tutta la sua pienezza dalla forma e dai colori che ha attorno che danno in modo danno modo a lui di esprimere tutta la sua il suo potenziale e quindi di fare di far sì che la che la nuvola che è in primo piano possa essere costruita e venire fuori in tutta la sua pienezza la mia idea è quella proprio di di prendere questo blu e portarlo attorno a tutta a tutta la nuvola meno che la parte in basso perché essendo più vicino al terreno si tende a schiarirsi quindi non è una nuvola che sta sopra i miei occhi è una nuvola che sta davanti ai miei occhi e quindi questo lo voglio focalizzare proprio quando intendo schiarire la parte in basso del blu adesso uso questo tipo di pennello perché è un pennello che è abbastanza morbido non è molto rigido e mi permette di accompagnare il colore nei bordi bianchi della nuvola perché se fosse più rigido non riuscirei a sfumarlo quel tanto che mi consente questo pennello quindi gli attrezzi sono importanti tutto tutto concorre alla alla riuscita dell'intenzione che si ha quando si dipinge perché quando si dipinge si ha un'intenzione se io dipingo qualcosa ho l'intenzione di fare quella determinata cosa ma parlo per me magari ci sono persone che vanno davanti a una tela e cominciano a dipingere poi dopo gli viene l'idea io ho bisogno di compiere dei passi di essere di essere di seguire una un percorso che mi che mi consente di ottenere quello quello che alla fine voglio ottenere che piaccia o non piaccia ma è esattamente quello che volevo e questo per me è importante è importante ribadirlo a chiunque inizi a dipingere che la cosa fondamentale è quella di riuscire a fare qualcosa che si vuole fare non qualcosa che viene così per sbaglio molte volte non si riesce a fare quello che si vuole fare e allora ci si arrabbia però no lì è il momento in cui si capisce dove sta l'errore e quindi arrabbiarsi non serve non serve perché non ci si rende conto che si deve arrivare a quel punto lì per riuscire poi a progredire per riuscire a superare quel momento quel momento di dispiacere che che sembra che tutto il lavoro che hai fatto non serve a nulla che sembra che sei arrivato alla fine e macini macini colore ma non riesci a riesci ad arrivare a ciò che avevi in mente e quindi allora magari è necessario abbassare un pochino la sticella e cercare di fare cose che sono alla portata di alla tua alla propria portata e non c'è altro modo migliore che cominciare dal disegno da piccole forme e dall'analisi del colore e dall'osservazione perché poi il colore si sente quando uno dipinge olio non scolpisce è chiaro però lo sente il colore sulla tela lo sente la la forza la pesantezza del colore della la morbidezza la durezza sono cose che sente e costruire una una forma una forma bidimensionale costretti a costruire una forma bidimensionale ci ingegnano a anche a percepire molte volte quello che stiamo facendo come come qualcosa di di concreto tridimensionale non che vogliamo che far sì che questo diventi tridimensionale ma lo diventa solo quando noi lo sentiamo proprio sotto le nostre mani questa parte non l'ho velocizzata perché perché questo colore mi piace mi piace vederlo vederlo mettere e vedere che si compone perché perché vedo spesso questi tipi di azzurro e il cobalto ha queste tonalità ha queste possibilità di costruire un colore che che sembra veramente che venga strappato dal cielo anche se è in una tonalità un po' più spenta come può essere questa adesso uso il pennello più grande perché devo solo campire questa questa parte prima di schiarire una parte sottostante quindi unire a questo a questo tono di di azzurro del bianco di titanio vedete che il grigio che compone il colore azzurro si mescola perfettamente col grigio dello sfondo quindi anche se il grigio dello sfondo non è completamente asciutto però si si mischia si amalgama molto molto bene adesso prendiamo il bianco anzi prendiamo l'azzurro dal barattolo e lo mettiamo sulla tavolozza e mettiamo del bianco di titanio con cui poi come vi ho detto prima lo mischiamo per schiarire la parte in basso e dare quella quell'effetto di lontananza vedete l'ho preso direttamente dal barattolo l'ho messo sulla sulla tavolozza di alluminio e quindi chiaramente proviamo le varie tonalità sulla direttamente sulla tela della tela essendo ad olio il colore non abbiamo nessuna difficoltà a aggiustare la temperatura del colore il tono durante la la messa proprio sulla tela del colore quindi mi sono accorto che era un po' troppo scuro lo aggiungo il bianco e lo mischio direttamente sulla tela quindi ho in questo modo questo questa cioè mi ritorna di più tutto perché come vi ripeto questa nuvola io la vedevo proprio davanti non tanto in alto se fosse stata in alto sarebbe stata come la nuvola del dipinto monocromo precedente che sarebbe stata se il cielo sarebbe stato molto più compatto come colore come tono di colore quindi adesso naturalmente dopo aver fatto lo sfondo azzurro tutto intorno quindi chiaramente schiarendolo di qua e poi continuando poi a schiarirlo dall'altra parte riprenderemo la nuvola con le tonalità di bianco perché quella quel chiaro che voi vedete sulla nuvola in questo momento non è il colore più chiaro che si può è una tonalità sempre di bianco di zinco però mischiata a quel giallo che ho usato per fare il fondo della nuvola quando vado da quella parte la la luce fa illuminare passo davanti alla luce e la telecamera illumina il dipinto maggiormente se tengo invece il braccio in basso questo non succede spero di potermi dotare presto di un'apparecchiatura migliore che possa riuscire a dare delle immagini un pochino più un pochino più nitide ancora più nitide di queste anche perché devo assolutamente adentrarmi in un campo che è molto molto particolare e che e che ho bisogno di esplorare di provare prima di riuscire a capire quale materiale sia giusto utilizzare perché mi interessa che che riesca a essere più più nitido possibile per riuscire a cogliere le sfumature e mi piace ancora sottolineare sempre ogni volta perché lo ritengo importante quanto un dipinto sia nel momento in cui si sta facendo perché lo avete visto trasformarsi magari c'è stato un momento che voi lo avreste bloccato lo avreste fermato perché vi piaceva di più mi piaceva di più così e probabilmente io quando lo avrò finito avrò solo deciso di di non dipingere più perché la fine non c'è c'è solo un momento in cui uno dice basta non non mi interessa più stare qui e quindi consideriamo finito il lavoro però il lavoro è finito sempre a meno che non abbia delle funzioni particolari e quindi se è sempre finito non è mai finito perché come ho detto poc'anzi ci saranno stati i momenti in cui nel video magari avreste detto ma perché no lascialo così perché vai avanti non c'è bisogno mi piace molto di più e e quindi invece la mia intenzione è ben altra è quella di portarlo avanti fino a un certo punto e poi di lasciarlo ben consapevole che posso che si potrebbe andare avanti e ritrasformare perché la grammatica è sempre quella è quella della pittura e e quindi si può andare all'infinito si può stare su un dipinto all'infinito qui dentro naturalmente a questo finito questo non finito questo terminato questo lasciato lasciando perdere questo tipo di 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 squisizioni che che magari lasciano il tempo che trovano però lì dentro c'è c'è tutta la ricerca la mia ricerca sulla forma e sul disegno perché 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 mi ci riconosco perché sono le mie forme quelle che mi interessano e che poi ritrovo in molte parti dei miei dei miei lavori qualsiasi oggetto io io faccia e quindi quando quando specialmente in questo ultimo periodo lavoro molto col disegno e con le forme naturali quindi con questa esperienza sul paesaggio mi ritrovo a a continuare sempre il discorso e quindi il soggetto in questo caso la nuvola è un buon pretesto per riuscire a a indagare la forma indagare la forma cosa vuol dire mettiamo un po' i puntini sugli io quando dico indagare la forma vuol dire cercare di capire com'è fatto un oggetto e poterlo rappresentare in maniera tale da ricostruire delle forme che lo facciano sì percepire ma che però siano nuove rispetto all'oggetto che vedo e che passano attraverso la mia sensibilità e il mio interesse verso di esse e la possibilità che ho di creare di creare qualcosa di nuovo all'interno di quello che vedo perché ci sono dei particolari che io magari voglio ingrandire e quindi che mi aiutano a conoscerlo proprio e la tecnica mi serve per quello adesso sto facendo ecco una una parte interessante grande sto preparando il dipinto all'azione successiva che è quello proprio di mettere i chiari più forti quindi sto cercando di preparare il dipinto ancora di più di caricare ancora di più questa nuvola di materie in modo che possa assorbire possa pardosalmente poi alleggerirsi quando io metterò i bianchi più luminosi dentro a proposito di bianchi più luminosi ricapitoliamo ancora una volta preparazione di fondo con un grigio formato da Bruno Van Dyck un pochino di bianco di titanio e un pochino di terra gialla che avevamo preparato per l'altro dipinto invece il fondo della nuvola terra gialla bianco di titanio e un pochino di lacca di garanza poi sulla tavolozza abbiamo messo quel grigio abbiamo messo quel giallino e poi blu cobalto Bruno Van Dyck bianco di titanio e quindi abbiamo dipinto questo quadro in questi colori ad un certo punto abbiamo formato il blu che abbiamo di sfondo che vediamo di sfondo che è stato formato con il grigio dello sfondo il blu cobalto il bianco di titanio e un pochino di Bruno Van Dyck questi sono i colori che abbiamo usato quindi questi continuano a essere i colori che useremo fino al termine vedete il giallino di cui parlavo all'inizio che viene fuori dalla nuvola e permette di leggerne il calore permette alla nuvola di essere ancora calda il colore il bianco il chiaro che percepivamo prima come freddo adesso non ci pare più così freddo sto cercando ancora ancora di prepararla al passaggio successivo sembra quasi che la distrugga la decostruisca ma è un passaggio necessario per riuscire a a fare quello che voglio fare e quindi a darle quel movimento a darle quelle 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 pennellate o vibranti che mi che mi interessa che poi appaiono sul dipinto quindi adesso il fondo è completato mancano ancora manca ancora qualche ritocco alla nuvola prima dicevo di porre ecco mi fermo e mi aggancio per anticipare l'argomento che sarà quello del prossimo video il prossimo video di martedì mi interesserà mi interesserebbe presentare tre manuali tre o quattro manuali di pittura e di e di e di disegno e manuali proprio che che raccontano proprio le tecniche pittoriche il manuale di solito non è ben visto dai pittori perché perché li vedono li vedono come una costrizione ma non è un manuale che dice che parla del soggetto cioè di come fare le cose non è un manuale che dice come fare gli alberi come fare le nuvole no no è un materiale che parla proprio dei materiali è un manuale che parla delle cose degli oggetti sono quattro e quindi ve li vorrei presentare perché perché quello che manca molto spesso nei manuali di storia dell'arte ma è ovvio e comprensibile è proprio la parte tecnica il soffermarsi sulla parte tecnica se invece se si conosce la parte tecnica se si conosce abbastanza bene e si conoscono se ne conosce l'impiego nei dipinti che si vedono i dipinti che si vedono naturalmente si comprendono meglio e quindi può essere anche l'inizio di un viaggio per poi analizzare dei dipinti e comprenderli meglio quindi questo sarà l'argomento di martedì adesso comincio a mettere il bianco più luminoso vedete questo è il bianco più luminoso che si può è un pochino una forzatura perché perché in realtà il bianco che do adesso sicuramente in fase di asciugatura tenderà un pochino a smorzarsi e quindi e mi accura sempre dopo che ho finito un dipinto di questo tipo riprenderlo in un secondo momento quindi riesaltarne però non aggiunge non toglie niente al dipinto perché sarebbe come ripassare sopra a quello che ho fatto adesso quindi scelgo i punti che mi aiutano a a ricostruire una una forma e a dare forza alla nuvola e a dare forza molto interessante perché non aiuta soltanto magari chi vuole sapere come come io dipingo come cosa penso della gestualità pittorica e come la vedo io la gestualità pittorica ma serve anche a me per rivedermi e soprattutto rivedere il dipinto com'era quindi poterlo ancora magari rifare riprendendolo da quel punto e facendolo diversamente adesso ho iniziato timidamente a mettere questo bianco e via via sempre in maniera più decisa adesso il pennello è come cioè poco bianco sul pennello via via il pennello comincerà a portarne sempre di più fino ad arrivare a un buon spessore chiaramente viene esaltato il bianco esalta qua l'azzurro dello sfondo perché crea questo contrasto aiuta noi a percepire questo oggetto sempre come 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 una forma a noi familiare il contrasto della nube in cielo con il cielo è una delle cose che più abbiamo negli occhi penso che il cielo sia sia la l'oggetto che noi guardiamo più spesso durante tutto il giorno il cielo è una è una componente importantissima della nostra esistenza i celti pensavano che il cielo un giorno gli sarebbe caduto sulla testa noi sappiamo che è ben saldo e che può aprirsi in questi spettacoli straordinari e questi spettacoli straordinari mi danno occasione a me di di soffermarmi e e pensare come come poterli presentare attraverso la mia sensibilità adesso vedrete che il pennello si riempie sempre di più questi queste pause sono dovute al fatto che quando io porto il pennello sulla tavolozza ho bisogno di di prendere colore e molte volte quando sto prendendo colore sulla tavolozza mi soffermo a guardare anche gli altri colori e non so perché succede quasi come se pensassi a qualcosa che che potrei fare che potrei ancora determinare con quelli sul dipinto e infatti poi interverrò ancora qualche tocco però adesso d'ora in avanti ecco vedete qua la quantità di di bianco è tanta importante importante e quindi da proprio corpo nel vero senso della parola all'impianto della nuvola quello di sotto è proprio lo sfondo di quello che poi verrà è il fondo che è stato preparato proprio per questo bianco in funzione di questo bianco la parte che vedete proprio il corpo centrale della nuvola è stato proprio preparato per quello io lo presento tutto questo video in gran parte perché alcune parti sono velocizzate è chiaro che c'è una funzione su youtube che permette di velocizzare il video nelle impostazioni per chi non lo sapesse quindi se per caso voi vi vi annoiaste ma non lo spero spero che invece questa cosa possa essere interessante soprattutto per per comprendere un po' di più come sono fatto io ecco e quindi mi da modo di presentare di mettermi un pochino a nudo e e non svelare ma parlare attraverso attraverso la pittura parlare di me poi in fondo ed è quello che sto facendo anche adesso con la voce anche ricordo che si può ovviamente silenziare e togliere i sottotitoli ed eliminarmi completamente e guardare solo il video ecco ecco e qui cominciamo a entrare nella parte proprio importante del lavoro la parte determinante, soprattutto con le prossime pennellate, dove il bianco portato diventa sempre più, sempre più, più denso. Alla fine del video spero di riuscire a fare delle belle fotografie in scorcio, in modo da poter vedere lo spessore del bianco, che così questa ripresa non rende giustizia. Ecco, adesso poi finita la parte superiore inizia la parte centrale. Eh sì, perché dipingere è un po' come... è modellare. Ed è un piacere sentire proprio il pennello sulla tela, con il colore che si impasta. una bella sensazione, che consiglio anche a tutti coloro che non dipingono di provare, proprio per la sensazione di sé. adesso tiro questo bianco, in modo da poter riuscire a fare ammarezzare la parte sottostante, e poi mettere il bianco a corpo, in modo che possa vibrare, come in questo caso. se avete qualsiasi domanda relativa alla metodo, oppure proprio addirittura nel merito, del lavoro proprio, commentate, lasciate un vostro commento, questo mi serve anche per capire, se gradite questo tipo di video, oppure se questo video è pesante, se può risultare pesante, può risultare non interessante. Questo spazio molte volte non è considerato molto da chi usufruisce YouTube, come una sorta di biblioteca da consultare, mentre invece è molto sviluppato da coloro che hanno un rapporto con le persone che fanno i video, proprio che vanno su YouTube per cercare di avere un dialogo con le persone che compiono determinati gesti all'interno di un video. e soprattutto questo viene fatto dalle persone più giovani, mentre le persone più mature tendono proprio a usare YouTube come una sorta di biblioteca. mentre ho scoperto che è una cosa viva, una cosa vitale, una cosa proprio di scambio, non solo di opinioni, ma anche di esperienze. è un mondo che ho scoperto che non credevo, ma che mi ha riservato molte sorprese, e che mi ha fatto ripensare proprio a questo mezzo, non solo come una sorta di schedario, una sorta di affastellamento di video, di testimonianza del lavoro, ma proprio di dialogo concreto con le persone che stanno dall'altra parte. Oppure meglio ancora, quelle persone che fanno questo tipo di esperienza e di condivisione. su questa piattaforma. ora sto proprio mettendo il bianco in maniera proprio corposissima. quasi si percepisce anche da una visione frontale di questo tipo. dopo, quando ho terminato di mettere questo strato, questo livello di bianco, mi concentrerò chiaramente sulla rifinitura di certe forme, per dare un equilibrio anche formale al lavoro. perché quando si finisce, quando si decide di terminare e di lasciar perdere un lavoro, sempre si controlla se c'è qualcosa che al limite si può fare ancora. come quando si lascia qualche d'uno e gli si vorrebbe dire ancora una parola. e magari pensare che quella parola sia risolutiva. ecco, è un po' questa la sensazione, la mia sensazione quando decido di terminare e di lasciare un lavoro così. e poi il bianco che metto, cioè tutto il lavoro che metto, tutto il lavoro che impiego, cattura l'attenzione ovviamente. per cui la parte che in quel momento dipingo, cattura l'attenzione sul resto dell'altra. e questo è un elemento interessante, cioè il cui e ora diventa protagonista rispetto al passato. quindi ci mette un po' l'occhio ad abituarsi e quindi a ricomporre tutta l'immagine allo stesso tempo. riconsiderare tutto come è avvenuto allo stesso tempo. questa parte è una parte delicata, perché la parte terminale è sempre una delle parti più delicate. soprattutto quella inferiore destra. perché rischia anche di compromettere una intenzione sul lavoro che si era pensato di fare. quindi va eseguita bene e senza fretta. chiaramente quando io dipingo, non è che dipingo in maniera meccanica. anche mentre dipingo, mi accorgo della soluzione sbagliata che ho scelto e quindi ritorno sui miei passi. perché dico, non stai facendo quello che ti eri prefisso. questo in questo momento è accaduto proprio lì. che lo rivedo adesso in questo momento e mi ricordo di questo. il Bruno Van Dyck, ma anche tutti gli altri colori che ho usato e che uso, sono quelli che mi danno una sicurezza e una solidità e una garanzia proprio di risultare più esatti possibili. e più conformi a quelli che sono i miei desideri. cioè diciamo che sono consolatori in un certo modo. forse per quello che scelgo, oltre che da un punto di vista chimico che scelgo questi colori. perché proprio sono dei colori definitivi, perché definiscono in maniera molto bene i loro compiti. e li assolvono molto bene, ecco perché ve li consiglio definitivamente. ora, prima di lasciarvi a questi ultimi dieci minuti quasi di video in cui termino questo dipinto, vi invito a iscrivervi al canale. davvero. primo perché ho scoperto che arrivati a 500 iscritti posso attivare la community, che è uno spazio che praticamente funziona quasi come un piccolo blog. quindi che posso postare in continuazione, cioè non in continuazione, che posso postare quando voglio e in maniera spero oculata e che non mi prenda la mano questa cosa, però posso postare anteprime oppure anche altre pillole, altre cose molto più agili. e quindi il discorso, il dialogo fra me e chi guarda i video sarà ancora più interessante. quindi iscrivetevi al canale e condividete i video se vi sono piaciuti, date suggerimenti nei commenti, ditemi anche cosa non va bene, cosa va bene, quello che vi pare. sentitevi liberi di dire veramente quello che vi pare. e mettere un mi piace perché tutte queste azioni permettono al canale di essere più visibile in rete. quindi vi ringrazio davvero di avermi ascoltato, se mi avete ascoltato o visto, se mi avete visto dipingere questa nuvola. vi ringrazio ancora davvero e vi lascio a un pochino di suoni naturali, che accompagnano il termine di questo video, questi pochi minuti che rimangono al termine di questo video. quindi vi do appuntamento a martedì prossimo, dove vi presenterò questi quattro manuali artistici. a presto. 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 a presto.